Era un piccolo, un piccolo momento. Ma io non ricordo, eh? Ho visto che sei forte a calcio. Ho visto che sei forte a calcio. Ti prendo la palla. Dove è la palla? Cosa vuoi dire? No! No! Me lo stai chiedendo? Ma ascolta un attimo. Ascolta un attimo. Ma se ti invito a fare un calciato, vieni. No, pensavo che stessi invitando un Alessantara a Red Abyss. No. No. No, no, no. C'è quello che ho creduto, ragazzi, il chat. Ero lì per firmare con l'Istantara a Red Abyss. Del Abyss, come si chiama? Aspetta un attimo. Fai chiedere un secondo. Io ti faccio venire a vedere una partita. Vorresti venire? A vedere. E poi se ti piace ti iscrivi. Solo se mi fanno giocare tutte le partite. Eh, bro. Che di troppo farà. Che categoria fanno? Un po' di panchina devi farla all'inizio. Ma che categoria fanno? Seconda categoria. Abbiamo appena vinto il campionato. Ah, sì, no, lo posso fare, lo posso fare, lo posso spaccare. Così come vi hai chiesto un calcetto? Certo, con che persone ci sono? Se dentro queste persone non c'è almeno, non so, tipo, Drake, Michel Unzi, che è Rebena Rodriguez, non vengo ad avviso. No, ci sono Ezio Greggio e Giacchetti. Ezio Greggio? Ragazzi, fermi tutti. Tu conosci Ezio Greggio davvero? Sì. No, fai serio? Mi amico. Una parola? No, fermo, fermo, non hai capito. Mio padre è identico a Ezio Greggio. Li possiamo far incontrare? È fottutamente identico. Te lo giuro, due gocce d'acqua. Eh, però poi se non è identico veramente fai una figura. No, te lo giuro, aspetta, c'è il telefono lui, dopo invia Sofia la foto, te lo giuro è identico. Qual è sarà la prima cosa che faremo assieme quando ci vediamo? Calcetto? Bro, te l'ho detto, ti vuoi giocare a calcio. Voglio vederti giocare a calcio. Facciamo una giornata. Voglio che viena a vedere una partita di Sant'Ara del Pesco. No, bro. Quando avrai fatto questa cosa, andiamo a fare una cena. No, bro, non ci credo. Ci ho pensato adesso. Io sono rosso. Facciamo una collaborazione. Con il Sant'Ara Red Davis. Fai una cosa, bro. Ti posso dare un consiglio? Mi senti? Metti una storia su Instagram. Stati che è Sant'Ara Red Davis. Vediamo se lo fai. Metti una storia su Instagram. Tagge Sant'Ara Red Davis e scrivi... E scrivi... Voglio propormi... Come nuovo giocatore della squadra per la prossima stagione. Sant'Ana... Guardi qua, eh. Ce l'ho detto in accesa, non cappare. Sant'Ana Red Davis. No, stavo taggando Wayne. L'anno prossimo gioco da voi, punto. Cioè, un'imposizione l'ho scritto. Ok. Aspetta che... Guarda, carica... No, sotto tra prendi e scrivo... Anche se non lo sai. Ok. Anche se non lo sai. Ok. Ti sto pure mettendo il follow, frate. Perché mi stai simpatico. Va, va, va. Guarda, guarda. Tutto tuo. Guarda, è arrivata la notifica. Sant'Ana Red Davis nel punto di passo della loro carriera. Ragazzi, non avete capito che quando io metterò piede nei Sant'Ana Red Davis, la... Cambierà la storia di Sant'Ana Red Davis. Ragazzi, la storia di Sant'Ana Red Davis cambierà. Ragazzi, preparatevi. Che è un capo, frate. Preparatevi, cambierà tutto. Ho appena mandato il gruppo che hai messo la storia, frate. Mamma mia, mamma mia. Chi c'era il gruppo? Dome? Anche. Anche Dome. Caputana. Ma ci sono i cori? Fanno i cori? Ci sono? Ci sono i cori allo stadio? Bro, abbiamo la curva più... Hype d'Italia. Più hype d'Italia. Cioè, immaginate se segno sotto la curva. Cioè, immaginate che risultanza sotto la curva. Fermi. Così. Mamma mia, mi sto già sognando. Gol. Segno. Sotto la curva. Sotto la curva, ragazzi. Ragazzi, in chat, ho svoltato i Santana Red Devils. Ricordatevelo. Te giochi in squadra, no? No, fra io sono capo curva. Sono uno di capo curva, l'altro è Dome. Caputana, Dome. Ovunque quell'uomo. Ovunque. Ma quindi, accetti che accetto? Accetto. Sì, 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 sì. Sì, ma non è che è un invito per picchiarmi? No, no. Ma fra noi ti vogliamo bene. Ti vogliamo bene, bro. Questa è la tipica frase. È tutto iniziato così, ragazzi. Se non dovessi mai tornare, sapete benissimo chi è stato. Agostino. È stato Agostino, ragazzi. Agostino mi vuole picchiare, ragazzi. Omar Falco è stato... No, ragazzi, no, no, no. Però, però, cioè, sono... Cioè, qual è il vostro slang? Non lo so, non l'ho ancora capito neanche io. Ci sto insieme da due anni. Cioè, tipo, cosa dite? Eh, eh, eh. No. Eh, no. Dove? In campo o in generale? In generale. Gang. Solo questo dicono. Io dico solo questo. Cioè, scusate, quindi, cioè, io mi immagino l'incontro con il Red Davis, come cazzo si chiamano. Ok? Ci devo entrare e fare... Minchia, raga, gang. Cioè, così funziona? Ve lo giuro, sono una persona meno gang della vita. Cioè, io ho i muscoli, eh, per carità.